Lo volete uno spoiler? Quando non inserisco il video di anteprima sul mondo delle fate, che è il gruppo chiuso della Fata Tutto Fare, cominciano a nascere i post. Ma la Fata cosa pubblicherà questa settimana? Vi ricordo innanzitutto che le giornate di pubblicazione sono due, il lunedì e il venerdì, sempre alle 9.15 del mattino. Quindi oggi giro questa anteprima, così soddisfo immediatamente la vostra curiosità, perché nel prossimo video tutorial vedrete questo poncio. È un poncio a rettangoli, semplicissimo, facile da personalizzare, soprattutto studiato per voi una grafica, che vi permetterà di realizzare questo poncio praticamente per tutte le misure. Perché che lo facciamo per noi, oppure che lo utilizziamo come regalo, dobbiamo sempre pensare alla taglia. Magari ci va di realizzarla da bimba, oppure da donna, ma con una taglia più grande. Come facciamo? Non vi preoccupate, ho pensato a tutto io, seguendo il video tutorial saprete passo passo come realizzare il progetto, quali varianti applicare e soprattutto vi lascio tutte le misure di riferimento. Detto questo, aspettiamo il tutorial.